Opportunità per le imprese del mezzogiorno nel settore moda. Su questo tema si sono confrontati a Napoli, nella sede dell'Università Partenope, i vertici del sistema moda italiano. Apertura dei lavori affidati al Rettore Alberto Carotenuto. L'occasione di confronto non è sfuggita al sottosegretario di Stato, agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Maglio Di Stefano. Si riparte con gli strumenti che abbiamo messo in opera per accompagnare le imprese, non soltanto sulla fase post-Covid, che sarebbe limitativo, ma in generale verso un nuovo commercio, quello del XXI secolo, che si fonda su alcuni principi nuovi, la digitalizzazione, la necessità di creare una nuova fiducia nel cliente grazie alle tecnologie come la blockchain. Dal confronto è scaturito una sorta di patto per l'export, necessario per il rilancio di un comparto in profonda crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Tra gli obiettivi identificati dall'Agenzia ICE e di Sistema Moda Italia, lo sviluppo di alcuni ambiti del comparto tessile e moda del Sud Italia, che evidenzia potenzialità ancora inespresse. Importante è in tal senso l'intervento di Carlo Palmieri, Vicepresidente Sistema Moda Italia, con delega al Mezzogiorno. Un'occasione quasi unica per le aziende del Mezzogiorno, in particolare della Regione Campania, votate per l'internazionalizzazione, un momento delicato per i consumi e appunto per la crescita, e occasioni come queste, prima di tutto di promozione, ma sicuramente poi di attuazione del programma molto ambizioso che il Governo si è dato, fondi per oltre 1 miliardo e 400 milioni in varie linee per lo sviluppo dell'internazionalizzazione fondamentali. Al dibattito moderato dalla giornalista del Sole 24 Ore, Vera Viola, hanno preso parte anche Carlo Ferrero, Presidente ICE, Marina Vago, Presidente Sistema Moda Italia, Ercole Botto Poala, Vicepresidente Confindustria Moda, e Raffaele Fiorentino, Professore Ordinario di Economia Aziendale dell'Università Partenope.